Io oggi voglio fare complimenti alla squadra perché abbiamo fatto tre partite in una settimana e effettivamente a livello proprio di carica nervosa, a livello fisico se ne risentite quindi c'è stata proprio una grande voglia da parte della squadra di ottenere questo risultato quindi faccio veramente un applauso di cuore a tutti i giocatori, chi ha giocato ma anche e soprattutto a chi non ha giocato perché ha dato un aiuto importante dalla panchina proprio perché era una partita un pochettino difficile da affrontare sotto questi aspetti che ho detto prima quindi veramente merito al gruppo che ha voluto a tutti i costi questa vittoria Purtroppo in questo inizio di stagione prendiamo dei gol senza subire un tiro in porta insomma senza avere un'occasione dalla squadra avversaria come ci tirano in porta è un momento che dobbiamo stare un attimo attenti a tutto abbiamo cercato di evitare tutte le punizioni tant'è vero che secondo me anche sul gol non era un fallo per fischiare la punizione quindi ci dice un po' male sotto questo aspetto però ripeto grande merito perché la squadra l'ha voluta la vittoria è riuscito a ribaltare secondo me poi legittimando la vittoria anche nel finale che potevamo fare sicuramente al Tricolo abbiamo visto che questo è un campionato che dobbiamo concedere veramente poco 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 all'avversario perché come gli concedi qualcosa poi sei punito quindi è chiaro che con questa soluzione che ci abbiamo lavorato dal ritiro insomma che lo sapevamo nel momento in cui l'abbiamo anche preso per rotta che ha delle caratteristiche sicuramente difensive che ci ha dato un pochettino quella solidità e quei centimetri che magari ci è mancato alle prime due partite